Preparatevi Perché oggi andremo a vedere dei video Assurdi Ragazzi Bentornati su YouTube Recizione Dopo che YouTube ha creato una cosa Tipo TikTok Mi son detto All'interno di YouTube Ci sono cose più strane Che su TikTok E noi oggi andremo a vederle Mi raccomando se a voi piacciono Gli shorts assurdi Spaccate il tasto iscriviti E lasciate tantissimi pollici in su Questa è un'arma E non ho paura di utilizzarla Oh che bello che è YouTube Ma che è sta cosa Ma questo video perché si chiama Aspetta non lo voglio vedere Prima di andare ai shorts Pa 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 Ok questo è proprio la intro di questo video Iniziamo iniziamo Andiamo Nella categoria Shorts Che è sta cosa Iuto Ah sta facendo forse un involtino Primavera Che buono Che schifo Che è Una busta di plastica Per ogni video che andremo a vedere Vedremo pure Quante visualizzazioni ha fatto Buono questo sacchetto di plastica Ma è pe Peperoncino No ragazzi è peperoncino Oh mamma mia Io ho paura di mangiarlo sto coso Mi si scioglie la bocca Tu hai qualche suggerimento Per il mio prossimo video di cibo Si La carbonara Ti prego Non metterci la panna Un milione di like E che visualizzazioni 30 milioni E che cos'è No no io ho paura di proseguire Perché andremo a raggiungere 500 milioni Dobbiamo beccare il video Con più visualizzazioni Prossimo Perché sto facendo una reazione Ad un tipo che fa reazioni E la reazione Food Food Negli spot commerciali Contro la vita reale Un trapano e una pizza Ma perché devono trapanare la pizza Why are we drilling Ok hold on Ah Monster Glue Colla Colla No 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 Ok Who's gonna believe that's real That looks gross No aspetta Non è per fare Quell'effetto No No Cosa ho visto Ecco come vanno a fare l'effetto No sono curioso di vedere questo tipo quanto è visto l'ha fatto Me lo lascio atterrare ora Anch'io devo postare le mie reaction Questo slime è sempre così reale Ma non è uno slime Vabbè Prossimo No ma questo qui Deve spaccare un iphone Ma a parte che lo schermo è falso Dell'iphone O è vero Real Ok Real e quello è falso Ah ok Spacca il telefono Come io ho rotto il mio vero iphone Oh porca miseria Ma l'ha rotto davvero alla fine No non è reale sta cosa Non è reale È uno screen Non ci credo ne ora Ne mai Lui è il tipo di ragazzo Che si lava i denti Poi Mangia la cioccolata Ma che cosa sono sti commenti Lui è il tipo di ragazzo Che lava le sue mani Dopo aver fatto la doccia Ma che commenti sono Prossimo Amazon Prime Oh Amazon Prime Sì pure col profumo Io ci credo Oh ti sistema pure la casa Bello Compro tutto con la mano UPS Oh mamma mia Posso dirvi una cosa È vero Qua d'ordino con UPS Il pacco mi arriva distrutto Quante viso l'ha fatto questo video Vediamo 130 milioni Siamo impazziti Però bello ci sta Prossimo Aspetta Ghiaccio Più limone Vuole scorreggere In che senso No aspetta No aspetta Funziona davvero Adesso questo tipo lo prova Yo check it out I got a lemon Allora il limone Cut it in half Non ho capito Il limone lo taglia Non col coltello Ma con la forbice Perché Lasciate un like Per la mia sofferenza Vabbè vai Ma perché il limone con la forbice Wow Perfettamente tagliato Ok Ice Ai danti davvero il piso ragazzi Tanti canini assurdi Ok mi fido di te Conti Dracula Vediamo se fa l'effetto Ma fa effetto Ho sprecato due secondi Inutili della mia vita Nonostante tutto questo Ma Mi taglio un limone Con le forbice E quello che ho visto Anche io Ma perché Ecco perché ho fatto Così tante visualizzazioni Per questo video 40 milioni E beh E beh Eeeh Prossimo Io ho provato a vincere Una borsa Aspettate L'hai Un iphone 3 iphone Ah ho capito Dovrebbe spingere Non ci credo neanche per scherzo Se hai vinto tutti i miei iphone Ah Il mio arcade game preferito Ricordo tutte quelle volte Che io Ho provato Ho provato Ho provato a prendere Una televisione da 75 pollici E la matrice da adesso I commenti sono veramente cattivi Sono una cosa pazzesca Prossimo Una hack pazza Per la tua macchina Ok Ed è per fare cosa Cera Ah ho capito Devo utilizzare la La cera Per fare la chiave Della macchina Ma come fa Scusa Appena la metti dentro Si spezza Excellent No Ti è truffato Pensavo veramente Che dovesse aprire la macchina Con un pezzo di cera Invece Bastava cliccare il bottone Mamma mia Me l'hai fatta Grazie Quest hack Quante visualizzazioni ha Ah 50 milioni Che bella la vita Prossima Prossimo Guarda il limone Ok guardiamo il limone Questo trucco di magia Impressionante Ragazzi La reazione di sua mamma E' così genuina Ha trasformato una carta di poker Un orologio Bello 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 Mi piace Mi piace Quante visual Ha 51 milioni Però ho fatto un buzzacco di like Va bene così Lasciate un like a questo video Se vi sta piacendo Mi raccomando Prossimo Oh no Oh no Era falso C'è pure scritto Wow Quanto è brava a recitare Guardate in che modo sta guardando 2 1 Un orologio Un orologio Un orologio Un orologio Un orologio E poi comunque Prossimo Cioè non è che Se uno ti conficca Un cacciavite Nella mano Io farei Il mio cuore Stava iniziato a battere fortissimo All'inizio Ma io lo vedevo benissimo Che non era molto falso C'è pure scritto Vabbè Quante visualizzazioni Ha fatto questo video 67 milioni Ma io voglio vederne uno Che ne ha fatto 200 milioni Io Sono riuscito a trovare Lo shirt Visto In assoluto 415 milioni Di visualizzazioni Uno shirt Di 415 milioni Di visualizzazioni Vediamo Wow Cioè questo È un trucco Di magia Wow Il problema Lo sai cos'è Il problema Lo sai cos'è È che Come si fa A tenere in piedi Come si fa No Devo Devo saperlo Devo saperlo Wow È probabilmente Una forza Concentrazione No È un mago L'ha detto lui È lui Fai vedere Wow Anch'io vorrei fare Comprire così Tanti dollari Dalla mia mano Però Non è possibile Quindi Trista Con più visualizzazioni No Quello è con più visualizzazioni Ne vediamo un altro Così Questo Sempre con Jason Derulo Ma Jason Derulo Lo invito a tutti In casa sua Wow Va bene Ok ragazzi Io direi che Questo video Sui shorts Più assurdi Di sempre Lo posso anche Concuter qua Spero tantissimo Che vi sia piaciuto E nulla Iscrivetevi al canale Se non l'avete ancora fatto Mi raccomando Le pietre del destino Il mio primo libro Lo trovate In libreria E su Amazon Link sotto In descrizione E noi ci possiamo vedere A un prossimo video E Ciao Ciao